Honda Motor Europe Italia liete ad annunciare che è ora presente vicino alla MotoGP stradale che sta per essere accesa il mitico Freddy Spencer ripetiamo stiamo per accendere la MotoGP stradale l'RC 213 WS in area esterna Honda con il mitico Freddy Spencer con il mitico Freddy Spencer Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.